Nella notte tra martedì e mercoledì si sono verificati due furti in altrettanti barra H24 della città. Le attività prese di mira dai ladri si trovano in via San Giovanni Bosco e in via Consultore Benintendi. I malviventi in entrambi i casi hanno preso di mira le gettoniere alla ricerca di denaro, riuscendo a portare via diverse centinaia di euro. Infatti è di circa 200 euro il bottino del furto di via San Giovanni Bosco, nel corso del quale sono anche state danneggiate tre macchinette. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e i componenti della scientifica, mentre per l'altro episodio i danni devono ancora essere quantificati. Da capire innanzitutto se sia stata la stessa mano ad agire in entrambi i casi e su questo aspetto potrebbe essere d'aiuto l'eventuale presenza all'interno delle due attività commerciali o nei loro paraggi, impianti di videosorveglianza che potrebbero avere firmato quanto accaduto.